Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. In apertura una notizia che arriva da Treviso dove stamattina per moltissimi cittadini è stato un risveglio raccapricciante quello che hanno vissuto quando hanno iniziato ad uscire e ad andare in giro per le strade. Infatti sui muri alcuni sconosciuti avevano attaccato dei manifesti con immagini anti-immigrati e omofobi con il marchio della Lega. Erano delle foto davvero squallide, erano immagini molto forti che hanno lasciato inorriditi quanti si sono ritrovati a guardarli. Mentre la Lega ha preso immediatamente le distanze dal fatto, perché non c'entra ovviamente nulla, si stanno cercando in queste ore i responsabili del gesto. Sono in corso indagini al vaglio degli inquirenti, ci sono tutti i video realizzati dalle telecamere presenti nel centro cittadino. Oltre 10.000 veicoli in tutta Italia saranno radiati dalla circolazione, cioè saranno tolti dalle strade e poi sequestrati perché intestati in maniera fittizia. È il risultato di un'operazione che è stata condotta a livello nazionale dalla polizia stradale. L'indagine, che si chiama Ghost Car, ha evidenziato l'intestazione falsa dei veicoli usati secondo l'accusa quasi esclusivamente per mettere in atto dei reati. Quasi un anno fa a Padova l'incidente dell'autobus che trasportava 23 persone alla festa dei carabinieri che si doveva svolgere a Jesolo. Un incidente dal bilancio terribile. Ora arriva la notizia del rinvio a giudizio per il conducente che pare fosse in stato di alterazione. Sentiamo. Il prossimo 10 ottobre si svolgerà l'udienza preliminare che vede indiziato del reato di omicidio colposo Lorenzo Ottaviani, 39 anni, di Ardea, Roma. Il 39enne era alla guida del pullman che il 5 maggio dello scorso anno uscì di strada lungo l'A13 nel territorio di Padova. Un incidente agghiacciante. A bordo c'erano 23 persone, 18 rimasero ferite e 5 furono i morti. Le scene di quella tragedia restano ancora impresse nella memoria e purtroppo anche nella vita di chi è rimasto coinvolto e porta ancora i segni o delle ferite o del dramma di aver perso un familiare. I passeggeri erano tutti iscritti o simpatizzanti dell'Associazione Carabinieri di Aprilia. Quel 5 maggio erano partiti da Aprilia per raggiungere Jesolo e partecipare alla festa dei carabinieri. Il bus uscì di strada da solo all'improvviso, tanto che venne immediatamente ipotizzato un colpo di sonno. Oggi lo scenario delle cause appare diverso perché secondo quanto sostenuto dall'accusa rappresentata dal pubblico ministero Emma Ferrero, il conducente sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quando si mise alla guida. Gli uomini dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza hanno arrestato a Verona un nord africano. L'uomo era in possesso di oltre 50 grammi di eroina. L'arresto avvenuto nel corso degli appostamenti effettuati dai finanzieri nel quartiere Borgo Roma per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio in città. L'arrestato a precedenti per gli stessi reati era sottoposto tra l'altro a obbligo di firma per tentato furto e incendio. I carabinieri della compagnia di Piacenza hanno sgominato una banda di rumeni specializzata nella manomissione dei bancomat con la tecnica della forchetta. Due sono stati arrestati e tre denunciati al termine delle indagini che hanno permesso di attribuire loro oltre 160 colpi tra Piacenza e varie città del nord Italia, tra le quali in Veneto, Verona e Vicenza. Sono accusati di furto aggravato, accesso abusivo a sistemi informatici e utilizzo in debito di carte di credito. In un solo mese avrebbero raccimolato in questa maniera 35 mila euro. Torna la sospensione dei mutui per chi ha gravi problemi economici. Parliamo della prima casa, una notizia positiva in un momento davvero difficile per tantissime famiglie italiane. Sentiamo un po' i dati e le novità. Bilanci familiari che faticano a quadrare. Una famiglia su quattro non riesce ad arrivare a fine mese e non riesce a far fronte ai pagamenti delle bollette o delle rate del mutuo. Un'ansia costante che coinvolge un numero esorbitante di italiani. Non solo, dai dati raccolti dall'osservatorio semestrale Censys Confcommercio pare sia tornata l'abitudine di far segnare i pagamenti nel quaderno dei negozianti. Le famiglie posticipano ormai tutti i pagamenti. Quasi la metà ha intaccato i risparmi in banca e tre su dieci bussano ad amici e conoscenti per chiedere un prestito. In compenso cala il 6% chi si rivolge alla banca. Per chi ha gravi difficoltà economiche e ha un mutuo in corso arriva però una notizia positiva. Dal 27 aprile prossimo torna operativo il fondo di solidarietà per i mutui prima casa del Ministero dell'Economia che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Il provvedimento, specifica una nota del tesoro, è già stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Il fondo operativo dalla fine del 2010, rifinanziato dal decreto Salva Italia con ulteriori 20 milioni di euro, sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. Nella notte un rogo ha distrutto un deposito di attrezzi edili di una ditta di costruzioni a Poiana Maggiore nel basso Vicentino. Sul posto hanno lavorato quattro squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite ad avere ragione sulle fiamme soltanto all'alba di stamane. Sulle cause del rogo stanno ora indagando i carabinieri di Lonigo e 90. Le ipotesi dell'incendio al momento sono varie e non viene comunque escluso il dolo. Il danno sarebbe enorme. Nell'incendio è andato completamente distrutto un autocarro e altri macchinari di valore importante. Le fiamme e il calore hanno inoltre colato la struttura che è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell'ARPAV per verificare la qualità dell'aria visto che una parte della copertura dell'edificio sarebbe stata in Eternit. A Mestre i carabinieri in un'operazione antidroga hanno arrestato due uomini per traffico di stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di 500 grammi di eroina. I due, un tunisino di 23 anni e un italiano di 43, tenuti sotto controllo da tempo, sono stati bloccati a bordo di un'auto nella quale è stato trovato lo stupefacente. Gli arrestati sarebbero stati attivi nell'area di Via Piave e la zona limitrofa. 25 aprile e primo maggio, due giornate di festa che arrivano e offrono anche la possibilità di qualche giorno di vacanza. Gli italiani però, sembra, non si muoveranno molto. Allora sentiamo la situazione del turismo in questo periodo. 25 aprile e primo maggio rappresentano per il nostro paese non solo due momenti di festa, ma anche un'opportunità per il settore turistico. Tanti gli stranieri che giungeranno nello stivale per trascorrere qualche giorno di vacanza. Due festività che cadono a pennello perché creano il famoso ponte, ovvero la possibilità di una mini vacanza. Secondo l'ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, è previsto l'arrivo di turisti dalla Germania e dall'Austria. Ottimo anche l'afflusso di turisti russi verso l'Italia. Il maggior tour operetto russo dichiara il triplo di vendite di viaggi rispetto allo scorso anno con destinazioni italiane per il mese di maggio. Buone anche le prenotazioni dalla Polonia e dalla Repubblica cieca. Anche le prenotazioni da Brasile e Argentina segnalano trend in salita, attorno al 10% per il periodo primaverile, secondo la maggior parte degli operatori interpellati. Previsioni positive dunque dopo mesi che per gli albergatori sono stati molto tristi. Infatti se da una parte le classifico, i sondaggi danno un certo tipo di andamento, parlando con chi nel settore ci lavora e ci vive, il clima non è esattamente quello di un periodo sereno. Le difficoltà ci sono e sono reali. Purtroppo non è come una volta quando le famiglie italiane pianificavano le vacanze, ma si vive alla giornata. L'inverno è stato tutt'altro che straordinario, anzi molto triste, lamenta il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Vittorio Bonaccini. E aprile non sta andando bene, né le previsioni per la bella stagione sono migliori. La situazione nazionale è da brivido, con la capacità di spesa degli italiani che è inesistente. Va un po' meglio a livello internazionale, ma la meta Italia non ha più una pilla eccezionale. In questi giorni abbiamo molti turisti da gite scolastiche e nelle prossime settimane sono in programma una serie di eventi di tipo religioso che porteranno nel nostro territorio un altro po' di turismo, spiega Patrizia Rinaldis, presidente di Associazione Albergatori di Rimini. Auspichiamo che il tempo sia buono e che arrivino altre prenotazioni. Per ora siamo in attesa. Un contributo regionale di 296 mila euro destinato ai vigili del fuoco volontari di Schio è stato speso per acquistare un automezzo di soccorso risultato inutile perché è troppo grande per le strade di montagna dove dovrebbe essere impiegato. Lo denuncia la Lega Nord che ha presentato anche un'interrogazione alla Giunta Veneta per accertare le responsabilità dell'acquisto sbagliato e risolvere la vicenda dotando i pompieri di Schio di un mezzo più adatto alle loro necessità. Gli studenti universitari di Padova lanciano un appello al Consiglio di Amministrazione dell'Eso, in particolare al Commissario Straordinario e chiedono di non aumentare i costi per la mensa. Sono ormai giorni che i ragazzi stanno chiedendo a gran voce di non gravare ulteriormente sui costi. Ecco cosa dice un comunicato di studenti per. Chiediamo al Commissario Bordin di non scaricare i tagli sugli studenti incolpevoli dei giochi della regione. interverremo, dicono i giovani, ancora con un duro lavoro di pressione sul Consiglio regionale per lo stanziamento di nuovi fondi per risolvere la crisi di finanziamento dell'Eso. Nel frattempo, dicono ancora i giovani, come sempre tra gli studenti colpiti in questi giorni anche ad un altro Consiglio di Amministrazione, quello dell'Università di Padova, che si prepara ad un nuovo aumento delle tasse sei mesi dopo aver proclamato per mezzo stampa che non ci sarebbe stato. Come ogni settimana, la Polizia Locale di Padova fornisce i nomi delle strade dove saranno posizionati i telelaser. Sentiamo quali saranno a partire da lunedì. A Padova continuano i controlli predisposti ed effettuati dalla Polizia Municipale per contrastare la guida pericolosa e l'alta velocità. Le strade sono state individuate sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle indicazioni degli agenti addetti al controllo del traffico. L'attività verrà svolta da personale in uniforme e con veicoli provvisti dei colori d'istituto. Tutte le postazioni saranno preventivamente segnalate tramite il cartello di controllo elettronico della velocità. I servizi verranno effettuati in giorni e orari diversificati. Ecco le strade padovane dove verranno posizionati i telelaser. Da lunedì 22 a sabato 27 aprile i controlli si concentreranno in particolare lungo Via del Plebiscito, Via Avanzo, Via Ippodromo, Via Venezia, Corso Spagna, Lungar Gineziani, Via Romana Aponense, Via Montà e Corso Australia. Altro personale, anche a piedi, in auto e in motocicletta, verrà dislocato nelle aree critiche dei quartieri. Proseguiranno inoltre i controlli a contrasto dei fenomeni della guida con documenti contraffatti o alterati e del mancato rispetto dei tempi di riposo da parte dei conducenti degli autocarri. E adesso una notizia che arriva dal mondo della sanità. Una notizia importante. Potrò avere ancora un bambino. È una delle domande che possono affacciarsi alla mente di una donna dopo una diagnosi di tumore al seno. Gli enormi passi avanti fatti dalla ricerca scientifica in questo campo hanno cambiato profondamente negli ultimi decenni la risposta a questa domanda. Per fare il punto della situazione, dai più diversi punti di vista, ci sarà un incontro. Si svolgerà lunedì prossimo, un incontro organizzato dall'Associazione Volontà di Vivere. Ci sarà un convegno dalle 15.30 alle 19.00 a Padova, in via Altinate al centro San Gaetano. Il convegno porta a conoscenza della cittadinanza quanto la ricerca ha messo a punto per un percorso di cura meno aggressivo e per dare una speranza di vita e possibilità di maternità alle giovani donne che subiscono cure e interventi per il cancro al seno. Possibilità che in passato venivano negate a causa delle tempeste ormonali che provoca la gravidanza e che oggi invece possono contenere. All'incontro vi sarà la partecipazione di numerosi nomi importanti in campo sanitario. Adesso invece parliamo di viabilità perché per consentire alcuni lavori della rete fognaria della zona di Via del Santo a Padova alcune strade verranno chiuse da lunedì. Sentiamo. Per consentire i lavori di manutenzione di un tratto della rete fognaria di Via del Santo a Padova da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile la via resterà temporaneamente chiusa al traffico veicolare dalle 8 alle 18 nel tratto compreso tra la piazza e via Rudena. In queste giornate sarà temporaneamente invertito il senso unico di circolazione in via Rudena nel tratto compreso tra via Bellano e via del Santo e sarà disattivato il varco elettronico di riviera Businello. Saranno consentiti il transito dei residenti e l'accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via del Santo compresi tra l'area del cantiere e rispettivamente piazza del Santo e via Rudena. E Padova si prepara ad accogliere la maratona di Sant'Antonio migliaia e migliaia i runners che hanno iniziato il conto alla rovescia. Ricordiamo che la circolazione nella giornata di domenica subirà dei cambiamenti e così sarà anche per i mezzi pubblici. La maggior parte delle linee di trasporto pubblico subirà variazioni a causa della chiusura al traffico di diverse strade cittadine. Anche il tram sarà sostituito dagli autobus che svolgeranno servizio dal capolinea della guizza fino alla stazione ferroviaria dove termineranno le corse. Il servizio riprenderà regolarmente sull'intera tratta a partire dalle 17. Parliamo di clima. Una perturbazione in avvicinamento dal nord-ovest formerà una bassa pressione sul bacino del Mediterraneo che porterà una nuova fase di precipitazione. Dovrebbe essere più intensa tra la serata di oggi e la giornata di domenica. Dalla prossima settimana avremo un possibile miglioramento. ma l'evoluzione ancora è incerta e dipende dal posizionamento del minimo depressionario sull'Italia centrale. Termina qui questo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti